Buonasera, sono Isabella Rosa Pivò e per la mia rubrica video di informazione e cultura in BDA ho il piacere di essere in compagnia di Andrea Pevano, ideatore di un progetto veramente particolare e unico al mondo, ArtLife. Tenete ben presente che tutto ciò che vi vedremo stasera è un'anticipazione che facciamo solo a voi, perché il sito non è ancora uscito, se uscirà a breve, quindi vi invitiamo a mettere like nella pagina di ArtLife Italia per seguire tutti gli sviluppi. Andrea, cos'è ArtLife Italia? ArtLife Italia è un progetto partito parecchi anni fa, dove si era partiti con un'idea di quadri, perché c'è c'è altra gente che produce questo tipo di prodotto, ma non ci ha garantito questa qualità che noi stavamo cercando, cioè dopo anni e anni di studi non riuscivamo a trovare questa qualità. Siamo riusciti, grazie a un laboratorio di Milano, a integrare i veri DNA, quindi quello che si usa veramente ancora oggi al tribunale, e renderlo a una portata di tutti, con le lampade, vari disegni e vari tipi di lampade, con vari tipi di finiture, e nello stesso tempo siamo riusciti, già che eravamo sotto questo tipo di progetto, sempre diciamo sotto scienza, a portare anche le impronte digitali alla portata di tutti, su una sua aromatistica come un buco di cristallo. TASKET quindi ti rivolge un pubblico di extra lusso, sia per i materiali utilizzati? Sì, perché purtroppo oggi il DNA ha dei prezzi molto elevati, perché purtroppo è veramente dichiarato questo DNA, non è un DNA tra le corrette. No, siamo a qualcosa di un livello talmente alto, che non è stato raggiunto da nessuno. No, noi solo siamo i primi al mondo. Vi ringraziamo dell'ascolto, e mi raccomando il like è sulla pagina, grazie davvero Andrea per questa intervista, grazie a te, grazie a voi. E una buona serata a tutti voi. Grazie.